Nuovo presidente per Secam, società pubblica che in Valtinia e Valchiavenna si occupa della gestione dei rifiuti e del ciclo idrico integrato. Nella riunione che si svolta nel pomeriggio di oggi presso la sede di Via Vanoni a Sondrio, il consiglio di amministrazione è eletto al suo interno alla carica di presidente Raffaele Pigni, avvocato sondriese nato nel 78 consigliere indicato dal comune di Sondrio. Il nuovo presidente per la formazione e l'esperienza professionale che lo contraddistingue, uno spiega Secam in una nota, potrà garantire un contributo di rilievo nella realizzazione del piano economico-finanziario, approvato dall'Assemblea dei Soci il 9 dicembre scorso. Pigni succede a Massimo De Buglio, professionista che ha lasciato l'incarico a fine 2019.